TikTok è un'applicazione creata per dar sfogo alla creatività e che permette di creare brevi video musicali divertenti. Però per qualche strana ragione il portale ha creato una sezione horror dove sono raggruppati tutti i video di quegli utenti che hanno registrato qualcosa di terrificante durante l'uso dell'applicazione. In questo episodio verranno mostrati 5 video terrificanti su TikTok. Alex Hoof è un utente abbastanza conosciuto su TikTok. In questo video aveva deciso di realizzare un tutorial sul make up ma non avrebbe mai immaginato però che sarebbe diventato virale nella categoria paranormale di TikTok. Durante la dimostrazione Alex si posiziona davanti alla videocamera del suo smartphone e inizia a registrare il tutorial. Nel punto in cui stava iniziando ad applicare il trucco sul viso la sua espressione cambia improvvisamente perché una delle ante del suo armadio si apre da sola. Ecco quello che succede pochi istanti dopo. Alla fine dello strano episodio la ragazza prende il telefono e interrompe la registrazione probabilmente per scappare via dalla stanza. Una sera Billy Golf uno dei milioni di utenti di TikTok decise di realizzare come di consuetudine uno dei suoi classici balletti salendo sul mobile della cucina. Ok questa non è una delle cose più intelligenti da fare però l'inquadratura della sua videocamera è focalizzata su di lui ma l'obiettivo riprende anche la porta alle sue spalle ed è proprio lì che ad un certo punto del video accade l'inaspettato. Un'ombra che assomiglia al corpo di una persona passa dalla porta. Secondo quanto testimoniato da Billy lui si è accorto della stranezza solo dopo aver caricato il video sull'app ed è grazie ad alcuni dei suoi seguaci che gli hanno fatto notare. Questo video è stato caricato su TikTok dall'utente Erikar 1971. La registrazione proviene dalla telecamera di sicurezza installata nella sua abitazione. Erikar sostiene di aver registrato un fantasma. In effetti la clip è decisamente inquietante perché si vede qualcosa di non ben definito ma simile ad un uomo che cammina verso la recinzione. Secondo quanto testimoniato da Erikar lei crede che la misteriosa figura potrebbe essere suo padre morto il 26 novembre dello scorso anno. Chris Canyon è un account TikTok dove i protagonisti sono i suoi pitbull. Su questo account sono stati caricati soltanto sei filmati. Uno di questi ha suscitato l'interesse di centinaia di investigatori del paranormale. È risaputo infatti che gli animali abbiano una spiccata dote di avvertire e addirittura vedere delle cose che a noi umani non è permesso. In questo video uno dei suoi pitbull ha avvistato qualcosa di strano. Tutto accade molto velocemente ma è abbastanza per scatenare nell'animale questa reazione. Rallentando il video è possibile intravedere la nuna maria che a differenza del suo proprietario l'animale percepisce e segue con lo sguardo urulando come se volesse comunicarlo. Questo è uno dei video horror di TikTok più strani e davvero inquietanti. Io non saprei dirvi se è frutto della manipolazione grafica però merita di essere visto. La ragazza dopo aver caricato questo video ha deciso di eliminare il suo account. Non si sa per quale motivo. Il video ha una durata di pochi secondi nei quali la si vede parlare con i suoi seguaci raccontando loro di aver adottato un cane di razza cocker. Tutto sembra procedere tranquillamente fino a quando non focalizza la attenzione verso il suo cane. La giovane donna parla del cane con l'intento di portarlo fuori a fare una passeggiata. Tutti si aspettano di vedere un tenero cagnolino e invece la situazione diventa davvero inquietante. L'enorme faccia è chiaramente visibile sullo schermo e il tono della ragazza da prima sereno si tramuta in estrema paura. Con questo è tutto. Spero che il video sia stato di tuo interesse. Se ti è piaciuto lascia un like, fammi sapere cosa ne pensi tramite un commento e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Un saluto e alla prossima.